La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoyevsky, ma anche la poesia farà la sua parte. E questo è il messaggio che il Cenacolo dei Poeti ha lanciato quest'anno nel corso del Festival della Poesia. È stata una decima edizione ricca di sorprese, tra musica, teatro, percorsi sensoriali, passeggiate alla riscoperta di Bitonto, laboratori e reading letterari dedicati al grande per Paolo Pasolini. È andata benissimo. È la prima volta che mettiamo in relazione i diversi attori protagonisti di questo festival. Abbiamo messo in relazione architetti, artisti, poeti, cercando in qualche modo di metterli al loro agio, cercando di raccontare la città. Il nostro intento è quello di raccontare attraverso la poesia come la città può essere raccontata diversamente. Prendere come punto di riferimento l'istituzione, la scuola, abbiamo cercato di avvicinare i ragazzi alla visione del nostro obiettivo, quindi la poesia, la città e l'ambiente. Tanta la soddisfazione del direttore artistico del festival, Pasquale Rienzio, che è riuscito nell'intento di avvicinare i giovani al proposito di guardare la città nelle sue mille sfaccettature, puntando alla sua valorizzazione. I ragazzi sono stati veramente felici. È la prima volta che questi ragazzi hanno partecipato attivamente ai processi con la quale tutti i giorni abbiamo relazionato la poesia con le diverse arti. Sono stati i protagonisti, quindi sono stati i veri attori di questo processo, di questo racconto. Al termine degli appuntamenti, dal 28 agosto al 3 settembre scorso, il Cenocolo dei Poeti ha raccolto un racconto che ha visto i ragazzi del Liceo Scientifico Artistico Galileo Galilei impegnati nel leggere, guardare e ascoltare quello che vicoli, corti, beni architettonici e persone potessero trasmettere nella loro essenza. Questa esperienza ha permesso loro di comprendere come la poesia possa nascondersi in un profondo sentire, in cui la sensibilità del singolo è maestra. Meraviglia, creatività, partecipazione e voglia di mettersi in gioco sono stati i punti di forza dei ragazzi. E questo permette di dire che partecipare al festival è stata una grande occasione di formazione. Sì, ho vinto una gara di poesia. Diciamo che questo festival ha dato voce innanzitutto a noi studenti del Liceo Scientifico che ci siamo messi proprio in gioco con la poesia. Io scrivo poesie da circa un anno e ne ho scritte circa 44, ma ne ho selezionate due più belle che mi hanno poi permesso la vittoria di questa gara di poesia ed è stata veramente emozionante perché comunque non capita tutti i giorni innanzitutto di presentare al pubblico dei propri elaborati ma soprattutto questo festival è un valore aggiunto alla città di Bitonto perché dà proprio l'opportunità a tutti quanti di esprimere il proprio ego. Quindi questo rapporto fra poesia, architettura e anche la bellezza della città di Bitonto ha dato sì che appunto si svolgesse questo festival ormai giunto alla decima edizione. Sì perché anche tra i nostri giovani ci sono delle sensibilità che vanno scovate e vanno portate alla luce perché i figli di questo tempo, figli in modo ineluttabile, inevitabile della rivoluzione tecnologica che apre molti spazi ma chiude altri valori. Ecco soprattutto i giovani, ai giovani dobbiamo passare questo testimone di questa sensibilità di fermarsi, ascoltare il silenzio e sapersi ascoltare nel silenzio. Riuscendo ad ascoltare in silenzio e scoprire sé e l'altro gli studenti del Galilei hanno dimostrato la loro brillante sensibilità. La poesia è stata per loro matita di disegno di una nuova città. Apparentemente può sembrare appunto che non vi sia nessun nesso tra la poesia e la città, che la poesia sia come dire condannata da una dimensione personale, intimistica. In realtà non è così perché poi questo viaggio nel profondo della propria anima, come racconta Giuseppe Ungaretti nella sua poesia Il porto sepolto, il poeta riemerge e affida il suo canto, i suoi versi agli uomini, alle donne, alla sua comunità. E quindi i poeti, a me piace sempre dire che i poesi sono divertenti, non nel senso che sono festaioli, ma nel senso che divertono, cioè escono dalla normalità. I poeti ci aiutano ad avere un altro sguardo sulle cose, un altro sguardo sulla realtà e quindi anche essenzialmente sulla città. La città dove il rumore di fondo spesso è quello della violenza, del consumismo, dell'omologazione. Ecco, i poeti ci aiutano a riscoprire l'anima profonda della città e a recuperarne la bellezza. La bellezza di Bitonto allora è ancora salva grazie a manifestazioni culturali come queste. A confermarlo il giornalista e scrittore Valentino Losito, che insieme alla ricercatrice e docente Silvana Chiuz ha chiuso la decima edizione del festival nella meravigliosa cornice dei Giardini Pensili. Complice del successo anche di quest'ultimo appuntamento, la possibilità di coniugare la bellezza panoramica della città, l'arte e la poesia e la musica di Susanna Crociani e Marco Malasomma. I due artisti hanno tenuto un concerto sensoriale, ma Malasomma ha ammagliato il pubblico con suoni elettronici trasmessi con registrazioni ambientali e la Crociani suonando il suo sassofono.